Bentornati a tutti. Oggi è mercoledì, 27 marzo 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Capricorno. Luna dispettosa, prima amica, poi ostile. Peccato questo volta faccia della luna, fino a stanotte grande amica, intrigono al vostro segno, è così che vi ha messi a nanna promettendovi trame oniriche meravigliose. A tradirvi non solo il cambio di stagione, anche la bianca signora, che al risveglio ritrovate già alta nel cielo in quadratura, con un'espressione tutt'altro che benigna. Capo indagatore, suoceri rompiscatole e tanti bi e i sogni destinati a rimanere tali, finché mancano gli appoggi e soprattutto basi concrete sulle quali lavorare, il passaggio da fantasia a realtà risulta pressoché impossibile. Passeggiate e viaggi in vista. Inviti ad uscire, appuntamenti, gite, weekend. Una meta è vicina e ci si è incamminati verso di essa, si è sulla buona strada, si va verso qualcosa. Per i single si prospettano nuovi e interessanti incontri e appuntamenti. Una persona vi sta pensando da tempo, anche se non ne avete i segni, sappiate che lo sta facendo. Forse dovreste essere più attenti. Meglio cercare strade alternative per i vostri progetti senza forzare la mano sulle opportunità che avete disponibili al momento. Potreste anche ipotizzare di ricorrere al consiglio di un esperto o di un amico fidato in merito ai vostri progetti. Siete abituati ad avere tutto sotto controllo, sto suppone che ogni situazione vi deve essere ben chiara fin dal principio. Oggi però potrebbero esserci varianti importanti che vi potrebbero far sfuggire di mano situazioni anche di una certa importanza. Sarai produttivo, creativo, veloce. Situazione finanziaria da rivedere. Vantaggi nel domestico. Appuntamenti rimandati all'ultimo minuto. Oggi alcuni di voi potrebbero ricevere uno scherzo da qualche amico che potrebbe rivelasi molesto e poco simpatico. Buone le vostre finanze se siete natai tra le 11 e le 18 di martedì, gli altri dovranno ancora attendere i piccoli colpi di fortuna che il periodo promette. Oggi è decisamente un buon giorno soprattutto per i nati di lunedì e sabato, potendo leggete un buon libro oppure concedetevi del tempo per voi. Cercate di trovare la pace interiore che da un po' vi manca, se l'amore non va come dovrebbe in parte è anche colpa vostra trovandovi incapace a prendere le giuste e drastiche soluzioni. Per chi ama in modo clandestino si affaccia al pericolo di essere scoperti. Lotterai però contro i tuoi amici. Una piccola delusione nel lavoro. State demolendo l'immagine che avete in voi di una persona amica, perché non provate a chiarirvi e a sottoporre il vostro punto di vista apertamente? Uno straordinario gioventoro contribuisce a portarvi un ottimo stato di salute fisica e morale unito a un innalzarsi del livello degli entusiasmi, in special modo per adesso principalmente sui nati dal 2 al 12 di gennaio. Il pianeta gigante dello zodiaco avrà l'intenzione poi di restare in questo segno di terra a voi favorevolissimo per quasi tutta la primavera. Seppure avvertirete qualche piccola stanchezza dovuta al super lavoro dei giorni scorsi, in serata, il relax completo la farà svanire del tutto. Alta nel cielo la luna bilancina vi ricorda quanto è importante ammirare la bellezza, la percezione, mantenere un tono garbato anche quando si è alterati, sia nel ruolo di capo, sia in quello di dipendente. Accondiscendenti anche con mammina e la suocera, parlando del menù di Pasqua, incombenza, piacere che quest'anno. Sulle prime sbuffate, magari avreste voluto fare qualcos'altro, magari un viaggio, ma tirando le somme per così pochi giorni non conviene. Amore ed Eros. Nuove pretese non importa da chi arrivano, oggi tutti hanno qualcosa da reclamare, voi, il partner, genitori e suoceri perfino i vicini di casa. Notizie da un amico lontano o da una persona cara, che ha preso inspiegabilmente le distanze, magari riuscirete a capirne le ragioni e se occorre anche a chiedere scusa. Il team venere, Nettuno dall'amico segno dei pesci è al vostro fianco, impareggiabile alleato, specie se siete nati nella terza decade. Armonizzate la componente familiare con la dimensione di coppia. Riuscite nell'impresa di inserirvi nell'ambiente della vostra dolce metà facendola completamente felice. Successi erotici notevoli per i nati in dicembre. Lavoro e denaro. Per la vostra creatività il solito tran tran sta diventando troppo stretto, sognate spazi, opportunità lontano da casa e nuovi input per le vostre potenzialità. Produttive per studiare le ore notturne, da soli però, con i compagni finite per perdere tempo senza combinare granché ridimensionate le ambizioni e soprattutto l'autostima, se vi credete supereroi la delusione sarà inevitabile. Vi piacerà dopo il lavoro avere parenti e amici stretti attorno a voi, per espirare quel clima di concordia, di serena condivisione nel clown. Vi affidate alla cura e alla organizzazione pratica della serata con il vostro rigore e la di ottimi vini. Il vostro è infatti un segno che si intende di gustare i vini e offrire la sua competenza agli amici. Benessere. Per tenervi in forma scegliete pratica e medicamenti di origine orientale, dallo yoga all'agopuntura fino alla medicina ayurvedica tutte forme terapeutiche che vi infondano curiosità e fiducia, se ci credete e vi convince, il farmaco funziona il doppio. Denaro. La luna ancora ostile dal segno della bilancia vi vieta oggi di tentare la sorte al gioco. Dedicatevi per il momento ad altro e passate il turno, ci riproverete tra un paio di giorni concelli per voi più fortunati. Per lei, poche amiche sulle quali contare e vanno tutte al braccio del loro principe azzurro, finché dura. Restate voi, zitelline di ferro, padrone del proprio tempo e della propria libertà, ma segretamente in cerca di nuovi contatti sui social. Attente, in vetrina sono tutti bravi e belli, magari anche con foto fasulle, poi però bisogna assaggiarli nella realtà. Per lui, con mammina sempre la solita solfa, iniziate la conversazione in modo piacevole ma già a metà lo scontro è inevitabile, ideali, cultura e stile di vita troppo diversi per essere compatibili. Colore delle emozioni, giallo limone. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 5, finanze, 5, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.